In febbraio ci sono novità sulla data, sul giorno? No, ieri abbiamo fatto una riunione molto proficua al Ministero delle Infrastrutture, con il Ministro Giovannini, con tutti i vertici del Ministero delle Ferrovie dello Stato, dell'ANAS. Quindi stiamo indirizzando dei finanziamenti molto importanti sulla città e sull'area metropolitana. Napoli finalmente sta ai tavoli giusti e questo significa portare risorse a Napoli per un grande investimento infrastrutturale di cui la città ha bisogno. Quindi sono molto soddisfatto, è stato un incontro molto positivo.